Edcore Tour 93, uno ski touring leggero in salita che offre performance e sicurezza in discesa con un raggio di 16,4 metri e 93 al centro, nella lunghezza di 177 centimetri. Costruzione con Multilayer Sandwich Cup, legno di caruba, inserti in grafene, attacco Tirolia Ambition, 12, i ski hanno un profilo T-Tail Rocker. Head, core, 177, 93 sotto il piede, sicuramente lo ski perfetto, ideale per chi vuole passare dalla pista e avere la prima esperienza in fuori pista. Lo ski è strutturato molto bene, non è super leggero possiamo dire, ma è molto facile da usare in fuori pista, buon galleggiamento e cambio di direzionale. In fase aerea si sente comunque leggero sotto il piede e in atterraggio bello solido. A dispetto del nome mi sembra più uno ski da freeride, è abbastanza difficile da girare, devi andare sempre bello convinto, ti chiede molto, probabilmente se fosse stato più alto poteva anche essere più divertente. Ski super bello, ti permette di scese in neve fresca perché è uno ski super stabile, super intuitivo, vai dove vuoi, veramente uno ski molto molto divertente. E così, uno ski un po' pesante da pellare, perfetto per fare il pezzo di pellata e poi goderti la neve. L'unico problema è effettivamente il peso, ma assolutamente uno ski consigliato per tutti, uno ski super divertente e stabile. Uno ski dall'ingresso in curva veramente molto facile, versatile, in tante condizioni diverse, sicuramente inserito nel suo contesto del free touring è uno ski che può dare tante soddisfazioni. Rimane uno ski per un utente medio che non si aspetta una grandissima reattività dagli ski che ha sotto i piedi, però comunque uno ski che si sa comportare in ogni condizione, sia sul duro che sul morbido, sul già tracciato, funziona pressoché bene in ogni contesto.